Se la tecnologia continua ad andare avanti, Piceno Computers non la molla un attimo. Vindite e assistenza informatica per aziende, privati e studi professionali. Hai un problema? Un dubbio? Chiama Piceno Computers. È sempre pronto a darti la soluzione migliore. Ad Ascoli Piceno, in via Vittorio Emanuele Orlando 57, zona Piazza Immacolata. Info allo 0736 43084 o su www.picenocomputers.com Dacci un po' di volume, del computer. Go! Grazie. Fare della buona musica, comporre della musica ottima, per mantenere l'amore del pubblico bisogna fare cose di qualità. Io non credo di aver fatto cose di bassa qualità, per me questo è importante. Ma guarda, io ho lavorato con tanta gente, diciamo forse quella con Pino Daniele è stata quella più fruttuosa, quella insieme a Pino Daniele. E' uno strumento povero che però nasconde una grande ricchezza. Io credo di essere riuscito ad averlo fatto in parte. Quando si crea una canzone, nascono le prime parole, nasce prima la musica, o a volte nascono insieme? A volte nascono insieme. A volte rappresenta la vita, a volte i paesi. Io personalmente lavoro molto di fantasia, avendo viaggiato tantissimo, avendo girato il mondo. Nella mia musica si rappresenta il mondo, si rappresentano le cose. Se no, la luna, la vita, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede. Tone Esposito in cinque parole. Mediterraneo, creativo, percussionista, geniale per certe cose, disordinato. Tutte e cinque. Grazie di avermi intervistato e soprattutto buona musica a tutti quanti. Grazie di avermi intervistato e soprattutto buona musica a tutti quanti. Grazie di avermi intervistato e tutti quanti.